Nel II secolo, Leuccio Caino racconta che l'anima di Maria viene presa dal Signore e affidata a San Michele, mentre il suo corpo viene consegnato a Pietro, presenti gli altri apostoli. È la prima narrazione, ispirata dalla frequentazione dell'apostolo Giovanni, del transito della Vergine al cielo, la tradizione secondo cui la madre di Gesù non conobbe la corruzione della carne né quella del sepolcro, ma venne trasportata direttamente al cospetto di Dio. Secoli più tardi, Pio XII, il primo novembre del 1950, proclama il dogma dell'assunzione di Maria. Quella che era sempre stata profonda convinzione dei padri della Chiesa, diviene verità di fede. La Madonna, preservata dal peccato, sperimenta immediatamente la resurrezione anche della carne, anticipando quanto avverrà nel giudizio finale per il resto dell'umanità. Non viene esplicitata la morte o meno di Maria, ma si stabilisce che il corpo in cui aveva dimorato Dio non poteva aver subito l'oltraggio della sepoltura. La festa, sin dal VII secolo, era stata sovrapposta con il culmine delle ferie Augusti, il riposo di Augusto, il ferragosto che ancora celebriamo.